Si sono calati da 20 metri d'altezza, prima con le corde e poi con le scale a pioli, dal nono al settimo piano, per raggiungere l'appartamento di un'anziana rimasta vittima di un infortunio domestico. Teatro dell'operazione Il Grattacielo al numero 5 di via Carducci, di fronte a piazza Overdan. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario perché l'appartamento della 94enne era chiuso e con la porta blindata e a nulle valso l'intervento del fabbro allertato dalla badante che la assiste giornalmente. L'anziana infatti, pur rispondendo dall'interno, non era in grado di alzarsi essendo rimasta vittima di una caduta. Da qui la necessità dell'intervento dei pompieri che si sono calati dall'esterno dei poggioli nella corte interna dello stabile. Peraltro, visto il periodo vacanziero, non hanno trovato in casa gli inquilini al piano soprastante e perciò hanno dovuto calarsi da due piani più in su. Una volta raggiunto del terrazzino hanno forzato una porta finestra assicurando finalmente la 94enne alle cure del 118. Stando alle informazioni della sala operativa, le sue condizioni non sarebbero gravi.